Eccoci qua invece con i Ferragnez, numero due, possiamo chiamarli così senza essere offensivi, c'è Edoardo, c'è Francesca, non chiedetemi dove sono, sono Monti Lombardi, credo il Monte di Varese o qualcosa del genere, sono molto ignorante io di queste cose qua perché sono Veneta, in Lombardia vado poco, però guardate che paesaggi stupendi, giornata molto uggiosa, Ricchi Nicoletti a riprendere il tutto, eccoli qua, Ricchi con Edo, bellissimi, guardate il nostro tatone non è tanto contento oggi perché è una giornata, forse è una delle prime giornate molto autunnali così un po' piovose, però guardate che paesaggio, loro amano molto la montagna, mamma e figlia splendide, amano molto la montagna, più forse di Chiara, eccola qua con i bimbi, ecco Leo agghindato da Halloween, bellissimo questa speccia di costume, e Chiara Ferragni credo che sia nel suo store, bene al prossimo video, ciao!